Ti piace la cucina di mare, ma sei allergico ai crostacei? Oppure sei semplicemente vegetariano? O ancora vai matto per la cucina mediterranea? Allora il granchio di pomodoro è quello che fa per te. Semplice da realizzare, simpatica e molto versatile, questa creazione riuscirà a dare un tocco di freschezza e di vivacità a tantissimi piatti. Lasciati guidare dall'indicazione di Rita la scoperta di una nuova creazione Visual Food. Grazie per la visione!